Nell'ambito del restauro è molto importante riconoscere i materiali e i leganti. I materiali si possono riconoscere con varie tecniche di indagine, però una delle tecniche di indagine più semplici è che implica una quantità minima di materiale da analizzare, quindi da asportare dall'oggetto, che sono le microanalisi o tecniche di indagine microchimica. Necessitano di quantità minima di materiale e necessitano di un microscopio, è ovvio, perché si parla di microanalisi. Allora, la prima operazione che si fa è che si guarda al microscopio quello che noi stiamo per analizzare e si fanno delle ipotesi. In questo caso io divido il mio tampioncino in tre porzioni perché potrei sbagliare l'ipotesi. Fare l'ipotesi cosa vuol dire? Vedo un blu, penso, devo fare l'ipotesi di che blu è. Che blu è? I blu usati fin dall'antichità sono l'azzurrite, i lapislazzoli, il blu egiziano e poi lo smaltino. Nella granulometria posso fare una prima ipotesi. Ipotizzo la presenza di blu di Prussia. Se è blu di Prussia, con la soda deve diventare marrone. Bene, io applico una microgoccia e vedo però che non succede letteralmente niente. Ho evidentemente sbagliato a fare l'ipotesi. Il fatto di aver diviso il mio tampioncino in tre porzioni mi dà la possibilità quindi di rettificare il tipo. Non è blu di Prussia e allora ipotizzo la presenza di azzurrite oppure di oltremare. L'aggiunta di una gocciolina di acido cloridrico, l'oltremare lo decolora, mentre l'azzurrite, siccome è un carbonato di rame, deve sviluppare bollicine di anidride carbonica. Ecco, vedo perfettamente lo sviluppo di bollicine di anidride carbonica. Quindi ho individuato l'anione, adesso devo individuare il catione. È un carbonato, quindi l'azzurrite è un carbonato di rame. L'aggiunta di una gocciolina di ferro cianuro di potassio deve dare luogo alla formazione di un precipitato marrone. Un precipitato marrone perché si forma ferro cianuro di rame. In effetti si è formato ferro cianuro di rame. Abbiamo individuato l'azzurrite. Un altro pigmento che è possibile riconoscere è rappresentato dalle terre e dalle ocre. Terre e dalle ocre sono pigmenti che contengono ferro. Ora, è chiaro che devo individuare la presenza dell'ione ferro. La presenza dell'ione ferro, come lo individuo, la presenza dell'ione ferro lo individuo facendo un attacco acido con acido cloridico. E poi aggiungendo sempre ferro cianuro di potassio. In presenza di ferro io ho la formazione di un complesso blu, che sarebbe ferro cianuro ferrico, cioè blu di Prussia. Vediamo. Attacco sempre con acido cloridico per liberare l'ione ferro. Dopo aver attaccato con acido cloridico per liberare l'ione ferro, l'aggiunta, come dicevo, di ferro cianuro di potassio deve determinare la formazione di un complesso blu, cioè ferro cianuro ferrico. In effetti la mia ipotesi è la giusta. Un altro pigmento usato fin dall'antichità è il bianco di piombo. Il bianco di piombo, dal punto di vista chimico, è un carbonato di piombo. Il carbonato di piombo lo posso detectare in una maniera molto semplice. Bene, cioè al solito l'attacco con acido cloridico deve dare luogo alla formazione di bollicine di anidride carbonica per la presenza dell'ione carbonato. Dopodiché il piombo lo determino aggiungendo una gocciolina di ioduro di potassio. In effetti c'è sviluppo di bollicine di anidride carbonica. Mi serve lo ioduro di potassio e in presenza di piombo mi si deve formare un complesso giallo che è lo ioduro di piombo. Ecco, di fatto, svilupparsi il complesso giallo, l'ioduro di piombo. Però esiste anche un altro bianco che è il bianco San Giovanni. È sempre un carbonato, però è un carbonato di calcio, quindi deve dare positiva la liberazione di anidride carbonica all'attacco acido da parte di acido cloridico, ma non dare luogo alla formazione di un complesso giallo perché non c'è piombo in quanto il catione è il calcio. Quindi la conclusione qual è? La conclusione è che per fare queste analisi è necessario sapere la composizione chimica di tutti quanti i pigmenti. Bene, in effetti qui c'è il sviluppo di bollicine di anidride carbonica, è un carbonato. La composizione chimica di tutti quanti i pigmenti è sapere se ci sono test di microanalitici che possono essere utilmente adoperati nella determinazione, in questo caso non si forma il complesso e quindi abbiamo la formazione, la conferma che trattasi di carbonato di calcio. Il carbonato di calcio, passiamo ad un verde, i verdi sono in genere dei composti o di rame, sarebbe dire la malachite, oppure il terre, terra di Verona. Ora, la malachite, la malachite che cos'è? La malachite è un carbonato di rame. Il carbonato di rame lo testo direttamente con l'acido cloridrico per lo sviluppo di bollicine di anidride carbonica e poi con ioduro e poi con ferrocianuro di potassio perché, come per le azzurrate, in presenza di ioni rame si deve formare un complesso rosso mattone ed in effetti abbiamo dimostrato la presenza dell'azzurrite. Come dicevo in precedenza, bisogna conoscere la natura chimica dei pigmenti e se ci sono dei test. Per quanto riguarda l'altro verde, cioè la terra verde, qual è il test che noi possiamo eseguire? Il test che si esegue sulla terra verde è un test che deve essere finalizzato alla determinazione della presenza di ferro. Pertanto, il primo attacco è un attacco con l'acido cloridrico. Bene? Ok. L'attacco con l'acido cloridrico serve per liberare l'ione ferro, l'aggiunta di ferrocianuro ferrico in presenza di ferro, come per il resto, deve formare un precipitato di colore rosso mattone. In effetti, in questo caso, la formazione del precipitato è poco evidente in quanto in questo caso la terra verde non è assolutamente pura. La terra verde non è pura, però si è formato un precipitato di colore blu che ci dice che si è formato ferrocianuro ferrico, cioè blu di Prussia. Pertanto, abbiamo dimostrato la presenza del ferro e quindi è una terra verde. Formazione di ferrocianuro ferrico, cioè blu di Prussia.